giudizio personale penso che abbiamo cercato in tutti i modi di vincere la partita siamo arrivati a giocare a quattro punte per portare a casa vittoria abbiamo avuto ancora tre occasioni clamorose purtroppo con l'uomo avanti a portiere e non siamo riusciti a concretizzare dispiace perché già in due partite potremmo avere sei punti senza aver rubato nulla per l'occasione che abbiamo avuto clamorose invece siamo qua per due punti senza aver fatto un gol dispiace c'è la soddisfazione che oggi contro una grande squadra noi gli abbiamo permesso un tiro in porta nel secondo tempo in modo più marcato ma è giocato in una sola metà campo quindi credo che sotto quell'aspetto lì siamo soddisfatti dall'altra no perché queste occasioni qua se ci capiteranno conto probabilmente verremo a casa con niente in mano e grossi ramarici preoccupato preoccupato se non riesco arrivare a calciare in porta sono preoccupato perché in questo momento qua arriviamo davanti al uomo solo davanti a portiere non riusciamo a realizzare questo mi dispiace poi credo che abbia fatto 10 minuti quarto del primo tempo molto ma molto bene poi abbiamo rallentato e loro ci hanno chiuso praticamente tutti gli spazi secondo tempo abbiamo giocato una porta bisognava avere più concretezza in quello sotto quell'aspetto lì e quindi ci sarà da lavorare sotto quell'aspetto in settimana l'acqua 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 Grazie a tutti